Bella regà, è GNS Lucchè, ve volevo dire una cosa, parole mie, perché io i discorsi proprio ne so fare Praticamente GNS Lucchè, ve presenta un evento il 30 giugno, ne pioggia ne vento ci può fermare Network social nazionale, affronta gli attori, vieni a guardare, le star del web vieni a tifare Altre fontane, per aiutare a ricostruire a matrice, non puoi mancare, non puoi mancare, non puoi mancare E dai regà, è 30 giugno alle ore 17.30 allo stadio Tre Fontane dell'Eur, ci sarà la nazionale social Per la prima volta all'esordio contro la nazionale attori, quindi ce ne saranno delle belle È un evento benefico, io non so in che posizione gioco, però faccio schifo a giocare a pallone Però vabbè, e niente, venite e non mancate, non mancate, venite, dai, bella regà, GNS Lucchè Bless